Benvenuti in questo video sono GENERALTACINQUE e siamo su MOBILE LEGEND BANG BANG Molto importante andare avanti perchè dobbiamo cercare di completare anche questa serie Anche se non abbiamo proprio un vero obiettivo Quindi adesso mentre cerchiamo la modalità Facciamo sempre classificata a questo punto Classificata Inizia il gioco Non è ancora finito di scaricare le risorse necessarie per il campo di battaglia Entrano in partita che ora potrebbero comportare le risorse mancanti sul campo di battaglia Sì, voglio giocare e registrare il video quindi devo per forza farlo Mentre vi dico appunto che non so se arriverò a 50 episodi di questa serie Perchè il mio obiettivo sarebbe 50 Però non Entra Non vorrei fare troppi episodi perchè dopo non riesco a farvi altre serie Quindi non vorrei occultare altre serie per questo Ho tante serie da portarvi sul canale Sia da telefono che da playstation Ma in questo caso soprattutto dal telefono perchè ha contenuto tante E spero di riuscire a portarvele Se unisce anche l'altro magari facciamo cosa buona e giusta Quindi io vorrei riuscire a fare 50 episodi Però non so se farli perchè magari non ho niente da portarvi Perchè non ho campioni o eroi che sblocco ogni giorno Perchè se li sblocassi ogni giorno direi Guarda vi porto un ero al giorno e vi faccio il video Perchè non ne sblocco dei nuovi Quindi bisogna pagare per sbloccare quei nuovi Quindi per questo non sarebbe molto contenuto da portarvi sul canale Il gioco è molto pay to win Perchè sblocchi i campioni nuovi Gli eroi nuovi E li usi in battaglia Quindi E' molto E' molto sul pay to win Però La pratica trovata Ok vediamo se stavolta parte Ho fatto la pratica subito perchè vorrei Vorrei giocare subito Così almeno finisco l'episodio prima Perchè dura un po' la partita Dura un po' Io userei Laila Quest'episodio Nel scorsi episodio ho usato Angela Ora usiamo Laila Laila di colore azzurro blu Però l'ha già stato impostato così Quindi per questo E' giallo E' blu E' azzurro E' questo E' un po' viola anche Poi vi dico una cosa Mentre sto caricando Allora io Ho registrato un sacco di episodi Per Fortnite Lego Che vedrete in questi giorni E sono tutte della caverna O delle cose da fare lì Quindi sono l'ultima esplorazione Che sto facendo Anche se forse andiamo alla neve Non c'entra molto in questo gioco Però ve lo devo dire E quindi non so Quanti episodi farò Di Fortnite Lego Per fare quella cosa lì Ve la devo aspettare in più parti E fare più episodi Però non so Quanto ci vorrà Lampo azzurro Laila No ma Laila dovrei usarla meglio Però non so Vedi io uso sempre I stessi campioni Laila Leslie Angela Tigreal Che non so se si chiama così Però Voi fate finta che sia così E quindi uso i stessi eroi Perché ne ho pochi Da sbloccati Quindi non posso fare tanti Poi quelli che ho Non sono molto forti Perché mi ha scioppare Per ottenere quelli più forti Ovviamente Cioè Ti fanno scioppare Per avere le cose migliori E sono l'unico italiano? Ok Io acquisto quello Io aspetterei Acquistare potenziamento Perché magari Mi acquisto i potenziamenti Più importanti E' una trappola Secondo me Acquistare potenziamento Adesso Anche se è l'unico Adesso disponibile Quindi forse Dovrei acquistarlo Però Ok Io lo sto Lo sto ferrando Per lui Mi sta ferrando di più Aiutami i campagni Di squadra Anche se Angel era molto più di supporto Perché Diventava un avversario Un alleato E lo aiutava Ci ha colpito entrambi Che potere ha quelli O quella lì Che è un maschio E una femmina Perché non si vede Che è un maschio E una femmina In questo momento Sembra un maschio Però non so Colpisci Colpiscilo Ah c'è un altro avversario Beh lo sto colpendo Però non so Se faccio un grosso effetto Lo voglio inseguire Però non so Se è una cosa giusta L'ho perso Gli avversari Stanno vincendo Aiuto Mi hanno colpito E niente Mi hanno ucciso Vabbè Non è detto Che io riesca a vincere Con questo qua Oh 710 Questo è molto forte Secondo me Fai vedere 710 Ora c'è l'attacco Ah Questo attacco è buono Lo voglio prendere Ok Andato mi sblocca monete E denaro Giocando Cioè Il denaro non reale Ma quello del gioco Quindi per farvi chiarezza Andiamo ad aiutare i miei compagni Andiamo ad aiutare i miei compagni Ok Questa attacco è aumentata Adesso mi hanno colpito Adesso mi hanno fatto fuori Devo acquistare Rubavita Perché se rubo Rubavita Eh vedi Mi ammazzano Se no Potete ammetto Per il secondo Così adesso no Un po' più forte Ma vi dico subito Che non registro Solo le vittorie Perché mi suscite così Le partite Però non farò solo le vittorie Quindi se perdo stavolta Amen Cioè È solo per fare episodi Ok Ho preso un po' di monete Lo stanno uccidendo Il mio compagno Aiuto Aiuto Ci attaccano Aiuto E niente Tutte e due Sono uccidi La porta sola Vedi adesso Vinciano sicuramente loro Sono in vantaggio Hanno anche la torre Buttata giù Della nostra parte Virginia Bella Non fa niente No fa qualcosa Però fa poco Forse lagga Forse per questo O forse non ho scaricato I contenuti Per vederli meglio Forse non li vedo meglio Non li vedo bene Perché non ho scaricato I contenuti Però non potevo scaricare Non giù di adesso Giocando Perché non video Ilaida Ilaida buono Ilaida Che Ok Gli ho fatto un po' di danno E scappato Colpiscilo Colpiscilo Ok Se non scappa E se non mi uccide Dovevo riuscire Ucciderlo io Però mi sa che Mi uccide due No Chi è questo Chi è questo Ma chi è Ma chi è sta gente Che spunta All'improvviso Qui c'è l'attacco Buono Aia K O Per me K O Sono 14 a 3 Quindi sono molto in vantaggio loro Di punteggio Quindi più kill fai E più Ti da Le risorse Allora Allora Il pename Lo scendete casino Perché c'è un po' di casino Colazione instabile Ah una connessione instabile Lo sono io Connessione instabile 15 a 3 Dai stiamo insieme Che facciamo danno Stiamo insieme Questo Dobbiamo buttarlo giù Che è andato Mega kill Questo è andato a infilarsi lì in mezzo L'ho andato a finire Era lì in mezzo Ah è qua Eh vabbè se si aiuta una vicenda Io perdo E la legge spugli Comunque Ok ho ucciso quello Adesso mi hanno ucciso me Però dovremmo uccidere quello Bravo Manca l'ultimo Un po' di kill L'abbiamo fatta Eh Se riesce a uccidere quello Cominiamo il potenziamento Anche Delle abilità Dai Sono a 20 l'ora Ma noi siamo a 6 Quindi qualcosa abbiamo fatto Ma spariscono Spariscono dal campo Forse Lago un po' io Oppure non ho Il salato di legionamento Ok mi servirebbero Per giocare bene Però per farvi il video Devo fare così Se no Ok l'ho colpito un po' di volte Ma anche lui O lei Perché sono maschina femmina O c'è il personaggio Che il Che Che giocatore Panda revenge Vabbè Ti piacciono di panda Bravo L'hai scorsato Dai che lo uccidi Però sono in due Si sa che perde Tre secondi Attenzione Adesso ritorno Ma vinceranno loro Perché hanno già Conquisito Le torri Quindi stavolta Vincono loro Vince l'avversario Appunto Non loro Vincono in particolare Però Ah ma è lo stesso suo Fan tutti e due la scossa Sia il mio compagno Che l'avversario L'ho colpito L'ho colpito E' morto Ok L'ho ucciso uno L'ho ucciso uno Anzi ho fatto 4 kill In realtà Però 4 assist Più che altro Ho dato un po' Di problemi Agli avversari Quello ha un cubo Sopra l'immagine Come mai Vedi Sono certi campioni Che tanti eroi Che non si conoscono Quindi non posso sapere Come Non posso sapere Cosa fanno E soprattutto Non posso La squadra Rifusa Di arrendersi Eh beh certo Noi non ci arrindiamo Noi andiamo avanti Finché loro non vincono O loro non vinciamo noi Aia mi ha Mi ha trasportato All'altra parte Ha molta vita Vedi Vinciano loro Sicuro Perché hanno già Più torri E hanno anche Ucciso più di noi 31 a 7 Quindi sono il battaglio loro Stavolta Vinciano loro Ve lo dico subito 8 morti Ho fatto 4 kill Sono qua Sono qua Hanno ucciso un altro Lord apparso Quindi lord dei cattivi Non so come funzioni lord Quindi Non chiedetemi come funziona Perché non lo so Ho ucciso uno Ho fatto la kill Almeno una kill l'ho fatta Dai Una kill e 4 assist Quindi 5 in realtà Ogni volta che potenza il terzo Mi allarga lo schermo Non so per quale motivo Magari mi da la visione più lunga Adesso putteranno giù Anche quella torre Sicuro Si stanno divertendo Praticamente Perché adesso Hanno già il vantaggio Uno non gioca Nemmeno Dei nostri Adesso Ha smesso di giocare Io non mi arrendo Però loro Ci sono arrede E questo con un colpo Mastello Vedi Vedi come Come il pay to win Pay to win vince Adesso vinciano loro Utendolo più la torre Super minio nemico In azione E vabbè Adesso non ce neanche bisogno Perché tanto vinco loro Vinco loro Quindi Adesso vedi che hanno vinto loro Vi dico Non è giusto Solo le vittorie Dovete sentire di più l'audio Del vostro video Dovete lasciare il volume Del vostro attivo Perché sente basso E così con i video Quindi sente basso Non so per quale motivo Ma sente così Defeat Vabbè Abbiamo sconfitto Siamo rimasti sconfitti Però Punti protezione Ok Mi ha tolto una stella Praticamente Vabbè Devo Devo fare più punti Per usare le stelle Però Se non vinco Non mi da la stella Quindi Non ha senso Continua Livello 13 Sono salito Maestria eroe Più 32 Lei è scelta Nessun dato 1186 Più Meno 4 Bandiera Più 100 monete Più 116 esperienza Ho fatto meno uccisioni E meno resistenza Però ho fatto Team light Team fight Oro DPS E corsie Quindi ho ripeto Un po' tutto A parte l'uccisione E la resistenza Perché non potevo Ucciderli Sono troppo forti Cioè erano eroi Scioppati Che sono più forti E quindi sono più forti Anche se avessi La possibilità Di scioppare In questo gioco Non saprei chi scioppare Perché sono Non riconosco I campiù Gli eroi Quindi non so Quale scioppare Per questo Non ha senso Che io vada a scioppare Perché anche Anche per questo Anche per altre cose Ma anche per questo Infatti noi siamo stati Tutti Di basso livello Abbiamo caduto Il Bruno De l'argento Invece gli avversari Anche oro Ritorno alla lobby Vai riteniamo la lobby 8 a 38 Ne vinto Pallegiamente Hanno vinto loro No non voglio fare Un'altra partita Ho già fatto una partita E sono appostissimo L'avrò di completato Adesso Mi dà L'avrò di completato Adesso Che è adesso Che ho finito il video Ho finito l'episodio E anche la battaglia Forse c'era anche Dei problemi Di Di lag Perché non avevo risalato Tutti gli aggiornamenti Per questo Forse avevano Anche un po' Svanteggiato Perché non li vedevo Delle volte Quindi forse Sparivano per questo Niente dai Io non so Quanti episodi farò Magari faremo Dicete anche voi Nei commenti Magari faremo Un po' Classica Un po' Classificata Per i miei 10 episodi Poi faremo Magic Test Per altri 10 episodi Arcade 10 episodi E Restare 10 episodi Non so se farò 10 episodi di tutti Ma È un'idea Un'idea che voglio fare Però non so se lo farò Perché Mi richiede un sacco di tempo E un sacco di settimane Perché vi calco un episodio A settimana Quindi Magari quando finirà Forse in Lego Forse farò qualche episodio Destra di Bye Bye Legend of the Bank Così almeno vi farò Altri episodi E lungherò un po' La serie Però non so Se lo farò Quindi Detemi anche voi Nei commenti Se volete che Lo faccio Lo faccio Se no Se non vi interessa Potrei anche stoppare prima Tanto non penso Che Se è importante Se a voi non interessa Vedere gli episodi Di questa serie Non mi sembra Molto importante Anche se qualcuno Li guarda Però Pochissimi Quindi Non so se sia Interessante per voi Altrimenti io vorrei Farevi un po' Di episodi Per arrivare a un buon numero Giusto per fare Un po' la serie Perché se no Se faccio 10-20 episodi La serie dura pochissimo E quindi Non ha senso neanche Di essere una serie Praticamente Quindi Voglio fare più episodi Quindi Sperando che Sto tutto bene registrato Sperando di sì Perché se no Non voglio fare Un'altra volta Il video Io mi traccio Un like Se la serie Vi sta piacendo Sperando che Vi stia piacendo Quindi like Se la serie Vi piace Un commento Per dare la vostra opinion Cosa ne pensate Quindi fate sapere Cosa volete fare Cosa voleste vedere Condividete Perché se più gente Guarda il canale Meglio è Quindi mi raccomando Condividete Iscrivetevi al canale Se avete opinioni Iscrivetele pure Io vi ascolto E magari decidiamo Come fare la nostra serie Perché è un po' Repetitiva e noiosa Perché uso sempre I stessi campioni I stessi eroi Perché Ho quelli Quindi uso quelli Non è che posso shoppare Io non shoppo Quindi non ha senso neanche shoppare Perché non è un gioco Che ne vale la pena Secondo me Poi magari Secondo voi Ne vale la pena Quindi voi shoppate Secondo vostro consenso E io shoppo Secondo il mio consenso Io non shoppo Quindi va bene Quindi niente Sperando che Tutti vi sia piaciuto Like, commenti Condivisore Iscrivetevi A canale Se sono nuovi E noi ci vediamo Al prossimo video E i vostri commenti Funzionano Quindi mi raccomando Usateli Perché è importante Detto questo Ci vediamo al prossimo video E a presto E a presto E a presto E a presto